Sanchez! Alexis! Sanchez! E il nino meraviglia! E te l'ho detto io! E te l'ho detto io! E il nino meraviglia! 1-0 per l'Inter! Ottimo break, l'Inter al centrocampo, la palla arriva, Mkhitaryan al limite dell'area di rigore, vede l'inserimento di Sanchez in posizione regolare, anzi di Frattesi, in posizione regolare, Frattesi viene preso in controtempo, la palla passa, arriva Sanchez sul secondo palo, interno destro, a battere Schlager e 1-0 per l'Inter, Alexis! E il nino meraviglia! Inter in vantaggio dunque, la sensazione è che la palla fosse per Frattesi, l'aveva visto bene Mkhitaryan, lo serve, cosa fa Frattesi? Cerca di prenderla, non ci riesce però comunque la tocca, la palla arriva a Sanchez che è in posizione regolare, a tu per tu col portiere, il tiro e la palla in rete, dunque Inter in vantaggio, Thomas proprio Sanchez! Dall'inizio, vedi? Dall'inizio rende di più, ha fatto gol! Infatti questo volevo vedere e capire se il ragazzo magari è più motivato a giocare dall'inizio, no? Gol pesantissimo questo dell'Inter! Anche per come stava giocando soprattutto! Esatto, il momento di difficoltà comunque c'era, alla prima occasione però l'Inter passa, eccola qui, la classifica chiaramente Benfica e Real Sociedad devono ancora giocare, però in questo momento l'Inter sarebbe addirittura prima nel girone da sola quindi avrebbe proprio messo a posto le cose, devo recuperare la pubblicità o era già finita? Dobbiamo recuperare dell'Inter Filippo in un momento insomma non semplice della partita, gol importantissimo! No però è anche vero che rispetto ai primi dieci minuti il Salisburgo aveva un pochino abbassato il ritmo, infatti l'Inter aveva guadagnato un po' di campo, poi l'Inter in due sbavature ha concesso comunque due potenziali occasioni al Salisburgo ma quello non era più una questione di intensità ma era una questione di un apposizionamento sbagliato da parte dei giocatori dell'Inter adesso Salisburgo sta bene, si vede però concede, guarda qua grande palla di Bastoni, l'uscita di Schlager su Frattesi, molto alta qua la difesa del Salisburgo, poi il portiere ospite lancia lungo nella metà campo dell'Inter, buona l'intenzione di Bastoni col sinistro a giro a cercare l'inserimento alle spalle della difesa di Frattesi, bravo anche il portiere del Salisburgo a capire le intenzioni di Bastoni e anticipare Frattesi giusto di un paio di secondi. Ancora Pavard, largo per Dumfries, vanno subito a chiudere sull'olandese, buono il numero di Dumfries che chiede l'1-2 a Frattesi, si compie l'1-2, ancora Dumfries guadagna il centro, sbaglia tutto Dumfries in questo caso, attenzione che riparte il Salisburgo, sporca la palla Bastoni ma la palla è ancora per la squadra ospite che prova ad avanzare sulla sinistra con Kiergaard che può provare il cross, poi si ferma dall'atto cortellara di rigore, prova la sventagliata, qua c'è la Noglu, commette una mezza ingenuità, poi recupera ma ancora il Salisburgo, serie di batti e ribatti, ancora la palla per la squadra di Struber, poi c'è la Noglu, risolve tutto, prova a mandare sulla sinistra Sanchez che riesce a recuperare un pallone non facile, poi Sanchez prova al lancio per Lautaro, un po' troppo di fretta, la palla è consegnata a Pavlovich e allora può ripartire ancora la squadra ospite che avanza nella metà campo dell'Inter che però è piazzata nelle sue posizioni difensive, prova a chiudersi, attenzione alla verticalizzazione, la chiusura di Pavard, ancora un rimpallo perso, poi la chiusura grandissima di De Vrij che subisce fallo, chiede scusa a Simic, si piglia il giallo, De Vrij tra Torino e oggi, anche questo è un anticipo veramente di un giocatore che sta bene a livello proprio di testa, grande anticipo. Sicuramente insomma, il giocatore ritrovato rispetto a qualche tempo fa. Era partito anche bene, dopo il rinnovo devo dire che il giocatore aveva fatto bene, giocava al posto di Acerbi che era infortunato, però il suo l'ha fatto. Sì sì, ma lui ha iniziato le prime due partite che Acerbi era infortunato, ma poi ha giocato anche a Torino, è confermato oggi perché a Torino ha giocato benissimo, sta bene, ha avuto una stagione un po' difficile l'anno scorso, però quest'anno è partito molto bene, quindi anche adesso ottimo anticipo. Tra l'altro abbiamo tutti questi problemi adesso in difesa su questi rimpalli che non riusciamo mai a vincere. Anche qua, guarda qua, mamma mia che rischio, frattesi Pavar lì dietro, guadagniamo un fallo laterale con Dumfries, che però è in campo a battere, stai fuori che se no ti cambia la rimessa. Sei sulla linea, Denzel. Adesso andiamo a smirgli la chiama. No, pallone all'indietro Pavar, va a cambiare tutto dall'altra parte per bastoni, 24 di gioco, avanza a basto, poi si ferma e riparte da Pavar, fa spostare la linea del Salisburgo l'Inter. Pavar prova il lancio, però sono tutti in difesa i giocatori del Salisburgo, non puoi coglierli impreparati. Allora recupera palla la squadra di Struber, poi l'ottima chiusura di Frattesi che capisce le intenzioni dei centrocampisti austriaci. Pallone all'indietro, ancora per Sommer. Sommer aspetta che i compagni si facciano vedere, sceglie forse l'opzione più sicura, forse il lancio lungo. No, tocco corto per Pavar, si alza il pressing del Salisburgo, ci infogliamo un po' in una situazione non facile, poi alla fine in qualche modo su questo lancio lungo guadagniamo un fallo laterale, però sempre un po' rischiosi questi fraseggi sul pressing alto del Salisburgo. Ancora bastoni per De Vrij, largo per bastoni, ancora per Carlos Augusto che si è visto poco fino adesso. Mkhitaryan perde pallone, bravo Carlos Augusto a recuperarlo in fase difensiva, qua ha rischiato un po' l'armeno. Poi palla per Ciala che ha spazio per avanzare nella tre quarti difensiva. Attenzione a Ciala che si avvicina alla metà campo, c'è spazio per servire Carlos Augusto, anzi bastoni, lo fa adesso. Palla sul mancino, basto, prova a sventagliare per Dufris, la palla è perfetta. Dufris stoppa di petto in area di rigore, palla sul destro, l'ora sul sinistro, perde un po' di tempo Denzel. S'accentra e adesso tutto il Salisburgo è tornato, bisogna ricominciare. Bastoni, largo ancora per Carlos Augusto, posizione di cross, arriva il cross, molto buono sul secondo palo, non c'è nessuno. Arriva Cialanogulo, va a recuperare, può crossare dall'altra parte, sempre lato corto, pallone all'igneto per Pavard. Arriva il cross morbido sul secondo palo, mette fuori la difesa del Salisburgo. Attenzione che c'è spazio per ripartire per Gluck. Gluck va a cercare Simic, siamo un po' scoperti. Simic va in velocità, troppo lunga la palla per il 23 del Salisburgo. Però forse c'è stata una deviazione, infatti rimane il possesso per la squadra di Struber. Infatti è così, credo, credo sì, infatti è così. Batte Ulmer, 26 di gioco, anzi non batte più Ulmer, lascia l'incarico. No, non era Ulmer, è Gluck che ha lasciato l'incarico a Ulmer. Ok, adesso ci siamo. Pallone all'indietro per Pavlovich. A sua volta per Solé. C'è solo Sanchez davanti, l'autore del gol dell'1-0. Solé rischia molto sul pressing di Sanchez, si fida del suo fisico e fa bene. Palla larga sulla sinistra per Ulmer, che va a cercare ancora Gluck. Ancora il pallone per il Salisburgo. Palla sulla sinistra, arriva il cross, bruttissimo da destra. Bruttissimo il cross di prima intenzione. Palla in out, rimessa dal fondo per noi. Respiriamo un pochino. Gianni, che sensazioni hai? Sicuramente l'Inter ormai è in controllo della partita. È stato importantissimo fare gol, forse in uno dei tanti momenti difficili di questi primi 20 minuti, in cui veramente Salisburgo aveva tenuto palla, giocando molto bene, avendo anche due occasioni limpide per andare in vantaggio. poi gli episodi ti castigano, hanno fatto un bellissimo gol Sanchez e quindi insomma adesso è lì, pronta per chiuderla. Io credo che con un altro gol di Salisburgo intanto non ha più quella pressione che aveva prima. attenzione qua, c'è fallo di Mkhitaryan a metà campo, l'arbitro non ferma il gioco, lo fa adesso e ci sarà un giallo per Mkhitaryan. Eccolo qua. Però qua il giallo per Mkhitaryan è figlio di una lettura sbagliata di Cialanoglu, che ha dato un pallone, sì, verso Mkhitaryan, ma probabilmente non l'ho guardato bene perché Mkhitaryan era coperto da un uomo del Salisburgo che era in anticipo, la palla di Ciala è un po' corta, Mkhitaryan deve impegnarsi per andarla a prendere, commette un brutto fallo, un cartellino giallo assolutamente sacrosanto, però qua l'ingenuità e di Cialanoglu anche perché Mkhitaryan non poteva non entrare, perché loro sarebbero ripartiti. Sarebbe stata certo una situazione pericolosa. Assolutamente. Comunque diciamo che la condizione migliore in questo momento l'Inter è in vantaggio, per cui può sfruttare gli spazi, perché è chiaro che il Salisburgo adesso deve fare la partita, al di là che l'ha fatta anche prima di andare in vantaggio l'Inter, ma è chiaro che l'Inter quando ha gli spazi per poter giocare è davvero una squadra che dà il meglio di sé, insomma. L'Inter che poi non ha subito il fallo contro perché l'arbitro ha dato il vantaggio e quindi poi il vantaggio si è concretizzato ma poi Salisburgo ha perso palla, quindi ammunizione ma non calcio di punizione, l'Inter aveva recuperato palla e l'arbitro l'ha restituita all'Inter dopo aver interrotto il gioco. Ancora Pavard, attenzione che continua il pressing del Salisburgo, dobbiamo uscire un po' da sto pressing, bravo Dumfries! Però poi Frattesi subisce fallo un'altra volta, questa volta lo fa Dagurna, cartellino giallo, l'arbitro sta dispensando cartellini, non ne perdona una. Però sono già tre ammuniti in un tempo. Due del Salisburgo e uno dell'Inter. Però tutti cartellini corretti, secondo me. Sì, sono d'accordo, mi sento di dire che sono tutti cartellini. Il pestone gli dà. E più gli dà l'altro calcio dopo quando è per terra, quindi volontariamente. No vabbè, io sai, su questi qua, su questo, con gli altri due sì, su questo qua non lo so. Cioè sono in scivolata, nel senso, però vabbè, meglio per noi. Intanto ha pareggiato il Galatasaray, gol indovinate un po', Mauro Riccardi, eh? Su rigore, però devo dire che sta segnando tutte le partite Mauro Riccardi, eh? Eh, ma... Cioè il giocatore ancora c'è, voglio dire, non è... Bastava ritrovare un po' di equilibrio mentale, nel senso di trovare la sua dimensione a livello proprio psicofisico. Cioè, un giocatore non si può discutere. Un giocatore esatto. Forse era anche l'ambiente di Parigi, dove c'erano troppe star, lui probabilmente non era un riferimento unico. Ma Istanbul è un idolo assoluto, eh? Capisci bene, lui ha bisogno di queste motivazioni, probabilmente. Cioè, è andato a battere il rigore, ha fatto il cucchiaio alla Totti, quindi vuol dire che sei anche in fiducia, no? Batti il rigore col Bayern. È in un momento giusto. Eh, ma sai, in un ambiente che ti ama, che ti idolatra, che ti può perdonare anche un errore, perché comunque stai facendo bene, ti senti anche di rischiare delle cose così, anche se non va bene, sai che... A Parigi era criticatissimo anche per quello che succedeva extra calcio, soprattutto, l'ha fatto solo la zero. E quindi, sai, i parigini sono anche snob e non te le perdonano a certe cose, quindi... Seguiamo il calcio d'angolo per l'Inter e poi ci fermiamo per la pubblicità, ma prima il corner. Sì, corner dalla sinistra, Ciala sul pallone con il destro. Parte Ciala, arriva il cross, lungo! Pavara anticipato all'ultimo, palla fuori, la mette giù il Ninio, poi dribbling, messo giù. Arriva il tiro di Ciala, altra deviazione, palla che finisce fuori dall'area di rigore. Probabilmente la punizione sarebbe stata meglio. Eh, certo. Ancora Mkhitaryan, posizione di cross, poi scucchiaia verso Dumfries, la chiusura del Salisburgo. Rimaniamo in zona offensiva, in fallo laterale. Buona però la trama qua dell'Inter. Io mi sarei preso volentieri il calcio di punizione dal limite a un metro da... Egliato il vantaggio, giustamente, perché... Sì, sì, però sai, la palla va esterna, è vero che Cialanoglu può crossare. No, ma lì la punizione era importante, eh, perché era appena fuori dall'area... Io me la prendo. Cialanoglu. Cioè, se ho poi il giocatore davanti alla porta, va bene, ma se ho una palla come quella che è arrivata a Ciala, preferisco la punizione. No, no, sono d'accordo. Dumfries pronto a battere con il fallo laterale dalla destra, palla molto alta in area, però rimane molto corta. Li mette verso la metà campo dell'Inter il Salisburgo, la palla viene presa da Ciala. Ci possiamo fermare allora. L'arbitro, finisce il primo tempo, 1-0 per l'Inter, gol del Nigno, meraviglia. Ed ecco qui la classifica parziale, ovviamente, parziale perché c'è ancora il secondo tempo, parziale perché Benfica e Real Sociedad giocano alle 21, però è una gran bella classifica, caro Thomas, eh? Sì, sì. Alla terza giornata, essere in quella posizione lì... Sì, dobbiamo chiudere questa partita, però, perché conosco la mia squadra e quindi dobbiamo chiudere questa partita. Non è un Inter che mi sta entusiasmando, devo dire la verità, tra i primi dieci minuti loro hanno giocato molto meglio di noi. Sì, siamo lì, ma dobbiamo chiuderla, perché con questi fraserci... Direi minimo sforzo Massimo Rizzo. Esatto, bravo Gianni, minimo sforzo, però dobbiamo chiudere, perché queste partite si mettono poi in situazioni che non mi piacciono. Siccome conosco la mia squadra, preferisco che ci mettono cuore e anima e chiudere questa partita qua. Gianni, che giudizio diamo su questa Inter nel primo tempo? Ti dico, ha sofferto nella fase iniziale, poi quando ha trovato il gol, loro sono calati, come dicevamo prima, perché fisicamente non potevano reggere quella pressione che ci hanno messo nei primi venti minuti, dove appunto hanno raccolto due palle gol limpidissime, però uno in uno è stata brava Donna Summer, e nell'altro invece è uscita di poco. Però devo dire che tutto è sotto controllo, certo ha ragione quando dice che le partite vanno chiuse, per carità, perché ripeto, il pericolo di queste partite dove non giochi contro delle squadre titolarissime è quello di dire, beh, una partita facile, l'ho già segnato, e ti siedi un po', e se ti siedi non ti puoi permettere di sederti né in campionato italiano né soprattutto in Europa. Il primo quarto d'ora secondo me è anche questo, ha pensato, Salisburgo, una squadra così, no non va bene. Infatti io dicevo, l'approccio non è che fosse stato dei migliori. Perché l'Inter ha questo, l'Inter, sto notando che ha questo, quando crede di avere davanti una squadra che se la può giocare... 2-0 in campionato dopo un quarto d'ora. Esatto, col Bologna, col Sassuolo, fa delle prestazioni che non si capisce. Quando incontra un Bayern Monaco, un Barcellona, o il Milan, l'Inter cambia, cambia marcia, non c'è niente da fare. Parte concentrata sia dal primo minuto. Questo è un dato di fatto, ragazzi. Sì, però Thomas bisogna anche pensare che questa squadra, come le altre squadre, gioca ogni tre giorni. Cioè non si può essere brillanti sempre. Non sto facendo una critica, non sto facendo, sto dicendo, però la mentalità... Eh, ma la mentalità è quella che ti porta magari a vincere anche più partite di seguito, magari anche senza vincere 3-0, 4-0. Non è che puoi vedere sempre l'Inter vista col Milano, con la Fiorentina. Ci sono anche le partite viste, l'Inter vista con l'Empoli, l'inter vista col Torino. Non si parla dell'approccio, Filippo, dell'approccio. Magari anche il Salzburgo ha sorpreso l'Inter. Magari non te lo aspetti così aggressivo, no? Ma stiamo giocando in Champions League, eh. Cioè il Salzburgo ha battuto il Benfica. Cioè qualche cosa di buono ce l'avranno. Cioè il Benfica non lo batti così. È una squadra che l'anno scorso ha fatto i quarti di finale di Champions, ha fatto un girone l'anno scorso, dove ha vinto col Paris Saint-Germain, il girone, il Paris Saint-Germain e l'altra squadra... Ce l'avamo noi nel girone il Salzburgo l'anno scorso. Quindi voglio dire, non è proprio una squadra di pirla il Benfica. E se il Salzburgo è andato a vincere, probabilmente qualche qualità ce l'ha. Chiaro è che chi ha tenuto un ritmo altissimo per 15 minuti, tu devi subire quel ritmo e poi sai che la partita dura altri 70. Secondo me è perfetto, perché ripeto, nella frase succinta di minimo sforzo massimo risultato, cioè però devi chiuderla. E adesso, oddio, ha avuto un paio di occasioni limpidissime, al di là delle quasi autogol che si stavano facendo loro, però ha avuto un altro paio di occasioni pulitissime e poteva averla già chiusa la partita. Però devi chiuderla, ripeto. Adesso poi c'è anche i cambi da fare, perché secondo me... Ah beh, certo, sei ragione. Insomma, c'è anche due o tre giocatori in panchina, che sono i veri titolari. Duram, Di Marco, Barella... Eh, appunto, non ce la vedremo. Comunque, il Nigno mi è piaciuto. Ha fatto una buona partita. Facciamo così, diamo i voti di Filippo e poi andiamo appunto nello specifico sui singoli, i migliori e i peggiori con Filippo Tramontana. Allora, app, Sommer, sei e mezzo, la parata iniziale è una parata importante, perché comunque sei zero a zero, loro stanno spingendo, il diagonale è pericoloso, molto attento, molto reattivo, parata bassa, quanto basso, bravo, sei e mezzo. Sanchez, gol, molto bello, tanto movimento, sei e mezzo anche lui. E sul terzo sono indeciso tra De Vrij e Dumfries, che è anche Mkhitary hanno giocato bene. Però metterei Dumfries, che mi è piaciuto molto, sia in fase difensiva che in fase di spinta, ha messo due o tre palloni dentro pericolosissimi. Quindi lo cercano molto, anche su palloni che poi diventano molto complicati per lui, perché lo cercano anche quando lui è vicino alla linea dell'out, con due uomini dietro, e non è che è proprio ai piedi di Zidane, quindi sai, non è che può controllare di fino, girarsi, deve arrangiarsi. Mi è piaciuto molto, do sei e mezzo anche a lui, non credo che nessuno meriti più di sei e mezzo oggi, sinceramente. Per quanto riguarda Boy Down, nel senso che metterei dei sei meno. Ce l'ha no, gluto, lo posso suggerire, che non mi è piaciuto. No, perché? Non ha fatto niente di eclatante, però non è sotto il sei. Io sinceramente non ho visto nessuno che ha fatto fatica. Sì, sì, non da essere sufficienti, però è uno dei meno brillanti, secondo me. Guarda, io ti dico, secondo me oggi non è un inter brillante in toto, infatti gli app, anche chi ha segnato, è sei e mezzo, poi gli altri, secondo me, seguono la ruota tutti sul sei. Da bastoni, devrai forse un pochino di più, Pavard sei, Frattesi sei meno. Lautaro stesso. Lautaro qualcosa di buono ha fatto, sei anche lui, cioè non vedo nessuno da bocciare che dici managliare. No, no, io non volevo dire questo. Meno brillante del solito, secondo me. L'unico, secondo me quello un pochino meno degli altri può essere Carlos Augusto, non tanto da bocciare. Ecco, è vero, bravo. All'inizio ha fatto un paio di robine, poi si è visto poco. Eh, si è visto poco, bravo, si è visto poco, non da bocciare, non è che ha fatto male. No, no, beh. Però, però, mi aspetto una spinta un pochino maggiore, sì. Dicevi Thomas, Sanchez ti è piaciuto. Sì, ti ho detto, dall'inizio, secondo me è tutta questione di testa anche nei giocatori, perché, vedi, lui dall'inizio magari si sente anche più importante per questa squadra e sta facendo molto bene, a prescindere dal gol. Ha fatto delle giocate, secondo me, degne, perché ha due piedi strepitosi, secondo me, molto buone e lo vedo molto pimpante, quindi è bello in palla. Per l'Inter, rigore per l'Inter, Cialanoglu contro Schlager, minuto 63. Inquadrato il Turco, aspettiamo solo il fischio dell'arbitro che sta per arrivare. Rigore per l'Inter, parte Cialanoglu, spiazza il portiere, Inter 2, Salzburgo 1, torniamo in vantaggio con Akan, Cialanoglu su calcio di rigore, come col Torino. 2-1 per l'Inter, dai ragazzi, dai, 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 su, su. Vai, filo, scatenati. Allora, per quanto riguarda gli app, Sanchez, l'autore del gol, 6 e mezzo, ha giocato una buona partita. Metto sicuramente De Vrij, che mi è piaciuto molto in fase difensiva, anzi in difesa, molti anticipi, soprattutto negli ultimi 20 minuti, dove comunque il Salzburgo ha fatto un forcing e noi facevamo fatica a uscire. 6 e mezzo anche da, anzi, do 7 a De Vrij. E poi l'altro metto Sommer, perché comunque nel primo tempo ha fatto una buonissima parata. Grande parata. E' sullo 0 a 0 e anche verso la fine, comunque è stato molto attento sugli assalti del niente di clamoroso, però è una parata importante e molta attenzione, 6 e mezzo anche a Sommer. Per quanto riguarda i down, mi dispiace tantissimo, però non posso non mettere Barella, perché è entrato male. Ci si aspettava un segnale da parte di Nicolò, che da inizio stagione che fa fatica non riesce a diventare il vero Barella, anche oggi è entrato e ha fatto molta fatica. A 5, faccio, do mezzo punto in più a Frattesi, ma non mi è piaciuto tanto, perché l'ho visto sempre, l'ho visto spesso fuori posizione, è molto propenso ad attaccare, ma a livello tattico mi ha lasciato un po' perplesso in fase difensiva, 5 e mezzo, e Carlos Augusto non ha giocato bene, mi dispiace, non è arrivato mai fino in fondo, anche in fase difensiva ha fatto fatica, in fase di costruzione non riesce mai ad andare verso l'interno del campo con la palla sul sinistro, si è fatto chiudere spesso, quindi 5 a Carlos Augusto non è stata la sua partita. Direi che più o meno questo, poi c'erano altri sul 5 e mezzo, ma questi qua dai. D'accordo? Volete aggiungere e togliere? Massimo, vengo da te per un commento, mi sembra, Filippo, e poi vado da Brambatti, poi naturalmente dagli altri preziosi tre punti, una prestazione faticata da parte dell'Inter, una vittoria che è maturata con non poca... Un Inter non brillante, oggi era importante vincere, la fatica c'è, alcuni devono ancora entrare negli schemi, Di Marco oggi per esempio non è entrato in campo perché è stanchissimo, Darmiana è entrato ma si vede che è stanco, Mkhitaryan è uscito perché era ammonito ma comunque è stanco, ha giocato un buon primo tempo, l'importante oggi era portare a casa quei tre punti che ti potevano garantire la tranquillità magari nel ritorno del gironcino, nelle partite di ritorno, la prestazione non brillante. Sesta vittoria tra l'altro Massimo San Siro insomma è veramente il luogo ideale dove giocare la Champions per l'Inter di Inzaghi, sesta vittoria, un pareggio nelle sette gare disputate in Champions proprio a San Siro davanti al proprio pubblico. Massimo? No, no, sono d'accordo con Filippo, questa comunque era una squadra fastidiosa perché comunque sono giovani, corrono e se tu non hai i tuoi calciatori nel massimo splendore fisico e anche di forma della serata, non dico di forma del momento, puoi andare a soffrire una partita di questo genere. Infatti insomma poi alla fine è stata un po' decisa anche da qualche episodio che è stato proprio lì sul limite. Io non voglio subito entrare, però io credo che il rigore per esempio per il Salisburgo a fine primo tempo, anche se secondo me non era proprio un gol meritatissimo, quello lo davano anche ai miei tempi negli anni Ottanta, non c'era neanche bisogno del VAR. Ha abbracciato un attaccante, peraltro il figlio di Simic che non ci ascolterà ma saluto perché sono stato vicino di casa suo e della moglie e quindi il figliolo l'ho visto veramente da piccolino, che era piccolino e credo che lì ci fossero gli estremi per il rigore, che magari poteva sicuramente cambiare l'andamento della gara, l'inesse della gara. Detto questo sono d'accordo con Filippo nel senso che l'importante però era portare a casa i tre punti e questi sono stati portati a casa per poi affrontare un girone di ritorno nel piccolo gironcino, il ritorno farlo diciamo con la possibilità poi anche di sbagliare una partita. Allora chiara l'analisi di Massimo che è entrato subito sul punto che ha diviso anche lo studio perché mi pare che già in presa diretta tu Gianni fossi possibilista sul fatto. Questa inquadratura dove c'è proprio una presa importante e poi viene trascinato per terra al giocatore che dico mamma mia se vanno al VAR la vedono poi il VAR l'ha visto e non l'ha giudicato però secondo me è quello di un caccio di rigore. Gianni scusa io ti interrompo perché io ti risottolineo ma lì non c'è bisogno neanche del VAR. Infatti no l'inquadratura poi era... Quello è un rigore che Delia, Lobello, Casarinna negli anni Ottanta a occhio nudo non hanno bisogno neanche del guardialine. È un rigore che tu dai perché l'ha abbracciato per 10 secondi, 7 secondi. È stato un abbraccio eterno. Si era affezionato a 10 secondi. L'eterno abbraccio. Vediamo se Filippo ha percepito insomma tu... No io sono d'accordo con la decisione dell'arbitro anche in presa diretta ho avuto la stessa opinione dell'arbitro e del VAR perché hanno visto entrambi e per me non è rigore. Ma si sono, c'è stato questo abbraccio. Si sono presi. Ma come fai a dire che non è rigore? Scusa Filippo, come fai a dire che non è rigore? Per quello che ho visto io si sono presi entrambi. Eh ma dimmi, spiegami, spiegami come fai, dammi delle indicazioni tecniche per dirmi che non è rigore. Io qualche, scusa, io qualche area di rigore l'ho vista, qualche attaccante l'ho marcato, qualche giocatore con le regole antiche l'ho marcato. Tu mi devi spiegare come fai a dire che non è rigore. Io, guarda, ho giocato anch'io in prima categoria, ci gioco anche adesso, faccio l'attaccante. Eh ho capito, vai, vai con la prima categoria. I falli sono uguali in Serie A come in prima categoria. Sì, va bene, dai, prima categoria. Va bene, dai. Parlate voi, parlate voi. Vabbè, Massimo, stava spiegando. Allora, dai. Eh vabbè, dai, però se mi vieni a dire che ha giocato anche lui in prima categoria vado via io. Ma no, era per dire che comunque un'esperienza di campo, un'esperienza di campo ce l'hai e che alcuni contrasti ci possono... Vabbè, allora, allora, dai, calmi, calmi. Non cominciamo col piede sbagliato, ragazzi. Dai, dai, allora, allora, poi mettiamo... Tanto l'episodio non possiamo farlo vedere, ecco, quindi adesso concludo il giro di campo. No, a me non che non ce lo mimino Ezio e Gianni, se ce lo vogliono mimare... E' un piacere. Se ci vogliono abbracciare. Possiamo anche... No, veramente, se siete disposti... No, ma non c'è tanto da... Allora... L'abbraccio c'è... L'abbraccio c'è... Ed è continuato molto stretto e poi alla fine lo fa cadere. Io cosa ti ho detto, Giovanna? Ho detto, se io dico questa cosa, mi additate come lo Juventino, ok? Però, quello, come ha detto Massimo, c'è un regolamento chiarissimo. Quello, non c'è bisogno di VAR, non c'è bisogno di collaborazione dell'assistente, di niente. E, un rigore detto, tanto è vero che cosa ti ho detto? Io volevo chiedere prima, se riuscivo a parlare prima di Massimo, dicevo, posso fare una domanda al difensore Brambati? Ma quello lì, è rigore o no? Per me, sì, tutta la vita. Sento che lui dice la stessa cosa, c'è detto... Giovanna, io... Detto da lui... Filippo stava parlando, stava facendo la telecronaca, no, prima, durante chiaramente le azioni. E io dico, mamma mia, c'è un fatto di questo replay di questo abbraccio, dico, ma questo è un calcio di rigore. Tutta la vita! Ma se è in area questo. Cioè, perché ero stupito del fatto, temevo che non fossi in area, perché dico, non avendolo visto e fischiato, mi sembrava... Poi Filippo dice, no, no, guarda che hanno fatto anche il VAR. Allora, cerchiamo di ritornare sull'episodio, magari con, non so, no, non possiamo far vedere praticamente nulla, però, però, magari ci ritorniamo, magari ci ritorniamo, eh, neanche quello, neanche quello, caro Soloroli, neanche quello. Fidiamoci della... Ci possiamo abbracciare, io e Gianni, però è una bella scena. Non sarebbe una bella scena. Gianni, tu hai parlato dell'Inter che, vedendolo adesso, è in testa al girone, può andare avanti, squadra... A me non sembra poi così una squadra da coppa. Adesso siamo condizionati positivamente dal fatto che lo scorso anno è arrivata in finale. Chapeau! Poi la finale l'ha persa, l'hanno persa a testa alta. Io quando perdevo le finali ero un... Come dicono a Milano... Cioè, non c'entrava la testa se l'avessi alta o bassa, la perdevi, punto. Tu dici... E mi sbeffeggiavano tutti, adesso hai la medaglia del vice campione d'Europa. Allora io dico che sono stato sette volte vice campione d'Europa, però non è una soddisfazione. Detto ciò, per tornare all'attualità, anche la partita di questa sera contro un avversario che non possiamo definire trascendentale, l'Inter non ha fatto una bella partita. L'Inter non ha schiacciato l'avversario. L'Inter giocava in casa. Poteva, ripeto, con un avversario più che abbordabile, non soffrire come ha sofferto negli ultimi minuti. Quindi sei critico. È il limite di questa Inter, cioè quello di specchiarsi troppo in se stessa, sapendo dei propri mezzi, ed avere un minimo di presunzione. Non sono critico. Sto guardando la realtà oggettiva. Ma vedi l'evidenza, ma il primo tempo contro il Toro è un Inter... Cioè ha avuto, ha dato segnali di stanchezza all'Inter. E infatti ha avuto segnali di stanchezza e di intermittenza nel rendimento in campo. Vabbè, l'hai detto tu. Non prendiamo ultimamente le partite contro il Toro, perché... Che avversario è? No, l'hai detto tu, dico la sua intermittenza. Perdonatemi, però è vero, è vero. Devo andare... Io voglio sciogliere un po', sai com'è il momento. Se prendiamo come riferimento le partite contro il Toro, in questo momento, cioè se la Juve è più brutta, non so di quanti ultimi anni, ha vinto 2-0 senza praticamente tirare in porta... E' un Inter che non è, diciamo, continua nel rendimento, Massimo, che spesso è un po' sulle gare. Un Inter stanca, ecco, appare stanca. Ma oggi magari sì, però io non sono d'accordo con chi dice che il girone è facile. Ci sono gironi più complicati e gironi meno complicati. La Champions è tutta difficile. Poi ribadisco, il girone dove c'è magari dentro il Bayern di Monaco, dove c'è, non so, un'altra squadra o il Real Madrid, quelli sono gironi magari molto complicati. Questo è un girone magari un filino meno complicato, ma che te lo puoi complicare da solo, perché poi, come abbiamo visto, con Real Sociedad hai fatto fatica e oggi hai fatto un po' fatica. L'unica squadra che, insomma, sei riuscito a battere meritatamente, potevi strabattere meritatamente, è stato il Benfica. Che anche lì c'era un rigore per il Benfica. E' vero, è vero. Anche lì c'era un rigore. Allora, allora, vedi, vedi, vedi. Non possiamo fare l'intendimento. Allora, se vogliamo fare la cronaca, se vogliamo dire le cose come stanno e non fare i tifosi, uno viene qui e dice, io critico il Milan, la Juve, l'Inter, io vengo qui per criticare. Se devo venire qui per leccare il culo, sto a casa di là. Mi metto di là e non faccio più niente. Ragazzi, bisogna dire le cose come stanno. Se si viene in televisione con le proprie maglie delle squadre, logico che poi dopo, se trovi uno che invece dice la verità, ti dà fastidio. Così come quando dico la verità sulla Juve, a Morina dà fastidio, così come quando dico la verità sul Milan, magari a Solaroli dà fastidio. E' vero. Ma ragazzi. Però, sai Massimo. Forse non si deve dire la verità. Allora, sui rigori. E apri uno scenario, scusate, scusate Giovanna, perché questa me la devi, ok? Allora, se ho giocato, io ti manderò un video e lo manda, adesso non c'è Foschini, lo manderò in regia, dove c'è Gianni Agnelli, ok? Che dice, lei si intende più di calcio lei o Boniperti? Senti cosa risponde Agnelli. Senti cosa risponde Agnelli. Di solito quelli che hanno giocato a calcio in Serie A sanno di più di quelli che non hanno giocato a calcio e che sono stati con le ciabatte. Cioè, ragazzi. Massimo, ho capito, però partendo da... Non ti puoi dire, però... Ho capito, ma nessuno toglie il fatto che il tuo punto di vista possa essere... Eh, ma allora, tecnicamente una persona... Però, Giovanna, scusa, però tecnicamente una persona, tecnicamente, tecnicamente però, una persona mi deve portare tecnicamente Ok? Tecnicamente una motivazione per cui quello non è un rigore. Una motivazione. Vabbè, ho capito. Ma magari è una motivazione che se anche te la porta non ti convince. Cioè, ci sta che nel calcio si rimanga distanti. Giovanna, Giovanna, io gli avvocati ce ne ho tre a casa. Ma no, ci sta. Gli avvocati ne ho tre a casa. Ma quante volte noi rivediamo... Devo portare il mio? Uno dei tre che ho a casa? Ragazzi, perché a volte capitano, no? Episodi che ci mantengono la, come dire, l'opposizione, anche con una moviola, anche con un VAR riproposto più volte... No, sul quale puoi discutere, Giovanna. E l'altro di un'altra. Questo no. Questo no. Non puoi discutere su questo. Ho capito, ma visto che non lo possiamo far vedere, io non è che non voglia discuterne. Ma ricordiamo però anche una cosa. Io non posso purtroppo farlo vedere. Che in tante occasioni, noi che guardiamo sempre il calcio, abbiamo visto cose che non ci siamo dati una spiegazione perché non vi sono concessi i rigori. Ragazzi, non hanno dato un rigore al Bologna contro la Juve. Ancora oggi è un rigore inspiegabile. Esatto. Il motivo per cui non... E l'abbiamo tutti detto. Sì, sì, c'è. È inspiegabile come non ha fatto a dare quel rigore. Ma io lo dico per la Juve, per il Miga, per la Tampoglia. Quindi non mi stupisco che non abbiano dato quello di oggi perché ci sono delle robe talmente... Ho capito, ragazzi. Massimo, ma in quella... Però, tecnicamente non lo deve dire. Massimo, ma in quella partita lì c'era anche un rigore per la Juve, eh? In quella partita lì c'era un rigore su chiesa. Ma vedi, ma poi... Sì, ma poi trovi anche chi quel rigore clamoroso ti viene a dire che non è tanto clamoroso perché il calcio è anche questo. È fatto da tante teste che guardano, da tanti occhi, da tante percezioni. Ma va bene, ma oh, scusa Giovanna, però stai giocando su qualcosa di sbagliato, eh? Scusa, il rigore o è rigore o non è rigore. Sono d'accordo. Tu dici che non è rigore. Ma un altro, tu dici che è rigore. Ma non è clamoroso, stai usando un aggettivo sbagliato. Non c'è il rigore clamoroso e il rigore non clamoroso. C'è il rigore che c'è o che non c'è. Allora il Vara sbagliato. No, basta, c'è il rigore. Eh, certo. Non è che è clamoroso o non clamoroso. Il rigore c'è o non c'è? Ma la percezione di un altro non è dovuta alla maglietta, ma perché anche al bar c'era. Ma al bar, allora l'arbitro e al bar non c'erano interisti, no? E hanno avuto una percezione diversa. E' 24 anni che vengo in questa televisione, è 24 anni che vengo qui e 24 anni ne ho visti passare tutti, no? Quindi probabilmente mi sono accorto, no? Di che cosa passa. Allora, sapete che cosa facciamo noi? Andiamo in pubblicità e torniamo a scegliere, scegliere. E qui siamo tutti d'accordo. Gian Bruno mi guarda come... Soprattutto la regia è d'accordo. Ah, ero in ritardo. Mi è venuto, non c'entra nulla, però ho fatto questa associazione perché secondo me se ne parla poco. Ma vogliamo dire che c'è stato in casa Inter un acquisto floppissimo, ma che io fin dall'inizio ho detto ma boh, mi sembrava già da un paio d'anni che non fosse più un giocatore... Nome e cognome. Eh, dai, dai, mi prendo la responsabilità. Floppissimo. Ma vediamo se vi viene in mente. Floppissimo, no? Quest'anno dici nuovo? Quest'anno? Sì, perché qualcuno se lo dimentica che è in rosa, questo giocatore. Dici almeno il... Eh, vabbè, dai, vi dico tu. Il reparto. Eh, Massimo, magari per te non è floppissimo, ma hai capito chi è? Un acquisto... Ma che, che... No, mi è venuto in mente così, ho fatto un'associazione, no? Parlando della scuriata di Bonucci, che forse aveva ragione a legge a tenerlo in panchina. Un giocatore... Ma non ho capito chi ha fatto l'acquisto floppissimo. L'Inter. Ma non mi viene... Eh, mi suggerisco. Ah, quella Arnauto, di Blissek. Arnauto. No, no, in regia. No, chi? No, ma non vi viene neanche in mente perché non vi ricordate che si è in rosa e che qualcuno ci puntava e diceva tornerà utile. Quadrato. 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 Goll annullato, Giovanna, goll annullato all'Union Berlino. A Gosens, per sospetta posizione di fuorigioco, che in realtà c'è, è piuttosto evidente da parte del numero 11, Fofanà, che poi prosegue l'azione, si libera di Nathan e anche i due giocatori, poi fa qualcosa di straordinario e mette il pallone al centro. Napoli la vista veramente brutta. Fofanà qui? Andrò a verificare se si tratta di lui. O un ennesimo Fofanà. Sai comunque che non sono d'accordo. Eh, ma io... non sei d'accordo sul fatto di Quadrato? No. Infortunato. No, no, no. Nel momento in cui potrai e dovrai aver bisogno di lui, se lui sarà a posto fisicamente, per me è un giocatore che vale ancora, a mio avviso. No, che valga, hai ragione, non c'è dubbio. Tu mi stai parlando del flop perché oggi sta ancora male. Eh, io questo però non lo so. Allora anche Arnautovic non ha, non ha giocato perché ha problemi fisici. No, beh, diciamo che, allora, se vedo il rendimento di, di, di Quadrado, mi è venuto così, visto che si parla, si nomina Sanchez, si nomina Arnautovic, si nominano altri, anche di altre squadre. Giù, posso dirti. Tra gli acquisti. Quadrado si tiene un po' in una niccia, no? Se quest'estate fosse arrivato Quadrado sarei stato contento. Io ti dico che se fosse rimasto alla Juventus, sarei stato contentissimo perché subito ho detto, non vorrei rimpiangere questa cessione, lasciarlo andare via così facilmente. Vedi, vedi, era un po' che non ne parlavamo, allora mi è venuto in mente ma non ce l'avevo in scaletta. Non condividiamo la tua idea, Giovanna. Va bene, va bene. Bocciata. No, ma io provoco, magari non è neanche la mia idea, hai capito? Io vi butto in pasto delle cose. Ah, è farina di qualcun altro? Secondo voi, è vero? E anche secondo Gianni, che non l'ha voluto dire ma lo pensa, è l'allenatore della squadra più favorita quest'anno. Campione d'Italia ed Europa. Già, e vabbè, Morina si porta avanti in maniera eccessiva. Simone Inzaghi, dopo la gara vinta contro il Salzburgo, ascoltiamolo. Ciao Simone, volevo chiederti della misura e dello spazio che alla luce del gol, il fatto che comunque si sia sbloccato, avrà adesso Sanchez in questa squadra. Qual è il suo ruolo? Il ruolo l'avevo detto ieri, che lui e Arnautovic hanno voluto l'Inter e noi li abbiamo voluti e che sono giocatori importanti. Sanchez lo conosciamo tutti, è un giocatore che ha nelle corde queste partite, che può sempre fare gol in ogni situazione. La sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno e sono contento che abbia segnato lui perché se lo merita per come lavora giornalmente e ad appiano. Buonasera Simone, le due volte precedenti in cui vi avevano pareggiato Sassuolo e Bologna, la squadra era entrata un po' in affanno, anche un po' in frenesia, in confusione. Stavolta la reazione è stata completamente diversa. Sì, sono d'accordo ed è chiaramente importante perché le altre due volte in vantaggio abbiamo preso il gol del pareggio come stasera che non si annusava il pareggio perché a parte il primo quarto d'ora dove abbiamo faticato a trovare le distanze e non si percepiva il pericolo e sicuramente dovevamo difendere meglio sull'1-1. Poi siamo stati bravi a rimanere in partita, abbiamo sfiorato il gol, siamo andati in vantaggio e chiaramente è un segnale molto positivo. Radio Rai. Ciao Simone. Ciao. Allora, ti state viaggendo in perfetta media inglese, pari fuori, vittorie in casa. Qui in casa però due vittorie di misura, probabilmente rispetto al volume di gioco streaming site, forse più quella col Benfica rispetto a quella di adesso. Riguardo a stasera, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno della squadra, se c'è stato qualcosa che ti è piaciuto di meno? Secondo me sono stati bravissimi chi ha iniziato, chi ha subentrato. Le partite di Champions chiaramente hanno un'intensità al Salisburgo. Lo conoscevo, l'avevo visto l'anno scorso, l'ho visto quest'anno in Amichevoli, l'ho visto a Lisbona. Poi sono rimasti con l'uomo in più, ma fino anche quando sono rimasti in parità a Lisbona. È una squadra giovane che ti pressa, che chiaramente ha delle qualità. Tanti anni che giocano con questo modulo hanno una rosa profonda, perché ci aspettavamo un determinato attaccante. Ne abbiamo trovato un altro, Simic, che ha fatto un'ottima gara. Prego. Ciao mister, Eduardo Vidal per HSM Portes. Inizio di stagione incredibile per Lautaro. Attualmente uno dei migliori centroavanti al mondo, 12 gol in 12 partite. Cosa significa per lei contare su un giocatore del genere nella squadra? Lautaro è il nostro capitano, sta lavorando benissimo per la squadra, deve continuare così. Chiaramente in campionato sta avendo un'ottima media in Champions con il Benfica. e stasera, dopo il gol di Sociedad, non è stato fortunatissimo, però siamo contenti di averlo. È il nostro capitano, deve continuare in questo modo e a lavorare, oltre che in partita, come sta facendo quotidianamente insieme ai suoi compagni alla pinettina. Calcio mercato. Buonasera mister. Complimenti perché intanto avete un po' blindato, no? Anche se manca qualcosa. E volevo chiederle, se il gol subito le ricorda un pochino quello subito anche contro il Bologna, con questa palla lunga che arriva da dietro, bastoni che molla un po' e poi c'è l'appoggio. Come mai? Cioè, cosa manca in quella lettura? Perché a me sembrava un po' di rivedere quell'azione vecchia vista contro il Bologna e volevo chiedere se anche lei ha avuto questa sensazione. Chiaramente dovevamo fare meglio, siamo orientati, dovevamo pensare negativo, anche se in quel momento, dopo il primo quarto d'ora, non c'erano le avvisaglie. Tutte le squadre possono sempre, a maggior ragione stasera, contro una squadra così, dovevamo, in quel momento che c'è una palla libera a parte il lancio, dovevamo essere, pensare un pochettino più negativi, chiaramente correre forte sulle preventive, parlo delle mezzali, il quinto a posto, dove abbiamo preso il gol, chiaramente potevamo fare molto meglio. L'ultima, tutto Mercato Web. Buonasera, ministro, complimenti. È successo di nuovo perché magari in un momento di difficoltà inizio gara, San Siro si è acceso con le luci, ha iniziato a cantare un coro che ormai conosciamo benissimo e l'Inter ha segnato pochi minuti dopo. Che cosa significa per voi? Quanto vi aiutano i tifosi in quei momenti lì? Ma i nostri tifosi ci aiutano, ci aiutano sempre. Abbiamo una grandissima spinta sia in casa che in trasferta. Qui a San Siro, insomma, stasera, sullo 0-0 nei minuti di recupero, sull'1-1, ci hanno dato una grandissima spinta e quella spinta in più, che l'anno scorso in Champions ci ha fatto fare un percorso incredibile. Quest'anno sono passate solo tre partite, abbiamo sette punti, abbiamo iniziato bene, però sappiamo che la strada del Girono è ancora lunga perché adesso avremo due trasferte col Benfica e Salisburgo che sappiamo che tipo di avversario troveremo. Grazie, buonasera. Eccolo qua, mister Inzaghi in conferenza stampa a San Siro, avete notato qualcosa? Volete porre una sottolineatura, un accento, un qualcosa che vi ha colpito? No, io do una notizia, visto che si parla di Inter. Un ex Inter si è riscattato alla grande pochi istanti fa perché al minuto 97 di Manchester United-Copenhagen, Manchester United vinceva 1-0, calcio di rigore assegnato tra l'altro all'arbitro guida, quindi è un'arbitrale italiana, al VAR lo vanno a rivedere tutto il rigore per il Copenhagen, va a calciare Larsson, lo para Onana, dunque al 97esimo Onana ex Inter si è riscattato, finisce la partita lì tutto in tripudio. È la prima buona che fa da quando è andato via dall'Inter. Sì, tante tante rappellate. Perché finora di ogni ne ha combinato. Sì, 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 in campionato tantissime. Eh sì, Onana non era partito, non so, non era partito bene, rimpianto, ecco, questo sì, dai suoi tifosi, no? Perché quando c'è stata questa processione… Io l'ho detto, a parte che questa sera Summer ha fatto molto bene, ha fatto anche una parata decisiva, quindi per carità, stasera da sette Summer. Però secondo me, rispetto allo scorso anno, l'Inter che ha due giocatori quasi titolari per ogni ruolo, il portiere, io credo che non sia da grande squadra. E anche quando ha giocato l'ultima, scusami Giovanna, l'ultima, prima di quella di stasera, Trubin, cercato a lungo, ha fatto delle parate incredibili. Anche lì, un po' si sono dispiaciuti di non essere riusciti a prenderlo, perché quello lì è anche giovanissimo. Summer è un portiere esperto, diciamo sempre che con i portieri l'età viene prolungata. Ma comunque è stata la seconda scelta dell'Inter, no? Quando c'è stata la famosa partita di Genova del Milan, dove è andato in porta Giroud, voleva andare Perisic, Pulisic, voleva andare in porta lui, lo ha fermato Pioli, gli ha detto, no, sei piccolino, manda lui. Ecco, il portiere adesso nessuno è un portiere, però l'altezza e la dimensione fisica… A me il portiere piccolino non è mai piaciuto, piccolino si fa per dire, è più di un metro e ottanta. Adesso c'è la moda, moda non è una moda, cioè… Hai ragione, dico ai Tancredi, Peruzzi… Ma non solo! Ecco, Peruzzi era chi si era tutto piccolino. Massimo, Castellini quanto era alto, Tancredi quanto era alto, cioè c'erano dei portieri che forse non arrivavano al metro e ottanta, e hanno vinto dei campionati. Però erano delle molle. Adesso, se il portiere non è un metro e novanta, non è un portiere. Però adesso l'altezza è diventata fondamentale in tutti gli sport, guarda nel tennis, guarda nella pallavolo, nella pallavolo, nella pallavolo… Il pallavolo è sempre stato… Allora, sentiamo Massimo, poi cambiamo argomento perché ho una news su Tonali e, ripeto, sul futuro di Vremovic, quindi finiamo e concludiamo col botto. Massimo, l'altezza, è cambiato il calcio, c'è un aspetto più fisico? No, no, la fisicità conta tantissimo, è logico che poi altre caratteristiche vanno a sopperire quando non ci sono. A me viene in mente Peruzzi, che comunque non era altissimo, era alto come me, che giocavo fuori. Però è stato quello che è stato, quindi ci sono tanti esempi, come poi ci sono esempi anche del contrario. È logico che, per esempio, se giochi in Premier, faccio un esempio, i due centrali difensivi non possono essere bassi, devono essere sempre alti e li vogliono tutti alti gli allenatori. È difficile che vai a scartabellare una squadra di Premier dove ci sono i due centrali difensivi che sono sotto l'1.85-1.86. È vero. È difficile. Poi magari trovi anche l'eccezione, ma è molto difficile.